È venuto a trovarci in studio l'avvocato di Giovanni Totti, Stefano Savin. Grazie di essere con noi, avvocato. Grazie a voi. Dunque, nella giornata di ieri è arrivato il via libera del Tribunale di Genova. Totti non è più agli arresti domiciliari. Come giudica il lungo percorso di stanze presentate, rigettate e infine accolte? Beh, è stata una vicenda abbastanza travagliata, nella quale noi ci siamo trovati con la convinzione che comunque fin dall'inizio le misure non avessero avuto ragione d'essere e per il tempo trascorso dai fatti che ci sono stati contestati e per la mancanza assoluta di elementi di concretezza che potessero fare immaginare che comunque quei fatti si potessero ripetere con le stesse modalità. Ci siamo scontrati con un'interpretazione diversa, prima della Procura, poi del GIP e alla fine anche del Tribunale del Riesame che si è spinto a valutare anche le ragioni morali secondo le quali si potesse valutare il comportamento di Totti. È una cosa normale quella di arrivare a questo tipo di interpretazione quasi delle intenzioni, della mentalità di una persona? No, non è normale e soprattutto è al di fuori di quello che è il dettato legislativo. ne avevamo proposto ricorso per Cassazione che finirà nel nulla perché ormai la misura non c'è più. Siamo arrivati comunque a questo epilogo positivo dopo che lui ha dato le dimissioni e le indagini si sono chiuse. Il Riesame peraltro riteneva che Totti non fosse consapevole, era un po' questo l'aspetto morale o etico della gravità dei suoi reati, ma come è possibile che un indagato possa considerarsi consapevole di un reato che ritiene di non aver commesso? C'è proprio un fondo che non è comprensibile. Io ho fatto un parallelo che voleva essere un parallelo di carattere culturale storico che poi è stato richiamato rispetto a una mentalità inquisitoria dove si pretendeva che ci fosse un'adesione anche di tipo morale è una confessione, è un'assoluta confessione. Il Tribunale del Riesame dice hai ammesso i fatti, ma potevi anche non farlo e comunque non hai ammesso sostanzialmente il reato, è una confessione. Questo non è non solo abituale, ma non risponde neanche a quella che è l'impostazione giuridica del nostro sistema. La legge si obbedisce in quanto legge, la forza della legge è intrinseca. Se poi ognuno di noi ha le sue valutazioni morali che lo portano ad aderire al dettato della legge o a dissentire, comunque la legge rimane quella. Che non ci fosse consapevolezza mi sembra veramente difficile da potersi sostenere se non altro per quello che era successo. Il discorso che avevamo fatto è prendiamo atto dell'interpretazione della norma, prendiamo atto di quello che è successo. Se per la Procura le cose non si possono fare così, noi rimaniamo convinti che si potessero fare, ma se la Procura dice che non si fanno così fin tanto che non ci sarà un giudizio, noi ci atterremmo ritornando eventualmente a esercitare la funzione a quel tipo di indicazione, come peraltro abbiamo scritto e sottoscritto. Non è stato ritenuto sufficiente, su questo io sono parecchio critico. Ecco, sullo sfondo di tutta questa vicenda c'è peraltro anche la necessità, che poi si è dimostrata indispensabile, di dimettersi per poter avere la libertà. Cioè quindi di legare la libertà personale di Giovanni Totti alla caduta dell'intera giunta e consiglio regionale della Liguria. Cosa pensa di questo che configura senza possibilità di discussione, se non altro un rapporto conflittuale tra poteri dello Stato? Certamente è stato un passaggio molto delicato e travagliato e che dovrebbe indurre una riflessione, perché obiettivamente lo stesso Giovanni Totti nell'assumere questa sua posizione ha voluto tenere, ha dovuto tener conto del mandato che ha ricevuto dall'elettorato e dall'intero sistema che si muoveva intorno a questo, dai partiti, dai movimenti, eccetera. Io credo che ci sia necessità di una riflessione, nessuno chiede impunità o immunità, ma sostanzialmente è necessario preservare il mandato popolare rispetto anche all'indagine. Tanto più se l'indagine è di questo tipo, tanto più se i fatti che vengono contestati risalgono ad anni prima, tanto più se non ci sono elementi per dire che comunque fosse, nonostante quello che sostiene l'ordinanza del GIP, che ci fosse un sistema, sostanzialmente un controllo che è partito nel 2020 ed è finito nel 2024, dove sono stati identificati solo due filoni di indagine che a nostro avviso non costituiscono reato, avviso della Procura sì, ma due filoni regati a due soggetti, non possono in alcun modo rappresentare un sistema a fronte di centinaia di interventi tutti simili fatti da Giovanni Totti. E voglio precisare, fatti sia in relazione a soggetti che chiedevano in qualche modo di essere accompagnati per venire o restare in Liguria a portare lavoro e benessere e che avessero fatto delle contribuzioni sia di soggetti che non avevano assolutamente... Peraltro è quello che avevate scritto anche qui la memoria, con nomi, cognomi, date, occasioni di appuntamenti di questo tipo. Adesso si va al giudizio immediato, dunque Giovanni Totti diventerà imputato, peraltro pochi rispetto al mare magnum di questa inchiesta finiranno a processo, perché sono coloro che hanno ancora la misura, quindi Totti, Signorini e Aldo Spinelli. Come si configura anche nel diritto questa scelta di andare a giudizio immediato? Lei ritiene che sia normale? Se per normale si intende qualcosa che succede spesso non è normale. Se per quello che ci riguarda affrontare velocemente il processo è un qualche cosa di positivo perché sappiamo come vanno queste vicende. Certamente il rito immediato, anche nella sua versione cautelare, cioè si può fare entro 180 giorni dell'applicazione di misure, è pensato per processi più semplici, più lineari. Questo non sarà un processo semplice. Credo che la Procura abbia cominciato a parlare di un 30-35 testimoni suoi, poi ci saranno quelli delle parti. Quindi un processo complesso che va saltando la parte dell'udienza preliminare, comprimendo i tempi per esaminare ad esempio l'enorme massa di intercettazioni che ci saranno depositate, non sono state ancora, ma comunque benvenga un processo che ci permetta quanto prima di svolgere pubblicamente le nostre difese. Sono ormai mesi che va avanti una sorta di processo mediatico nei confronti di Giovanni Totti e degli altri indagati, con straci di intercettazioni, con interpretazioni stravaganti a volte, a volte più verosimili di quello che può essere successo. Ma lei mi diceva fuori onda che non ha ancora contezza di tutte le intercettazioni. Cioè da una parte c'è tutto un processo in cui noi pensiamo di aver già capito tutto, qualcuno pensa di aver già capito tutto, ma lei che è l'avvocato difessore di Totti in realtà non ha ancora capito neanche la metà. Noi non sappiamo, ad esempio, tra le intercettazioni non utilizzate negli atti, se ce ne siano di quelle che ad esempio possono dare un'interpretazione diversa, una luce diversa, aspettiamo che vengano depositate e dovremo poi avere il tempo anche per sentirle, vedere. Perché quelle depositate sono solo quelle che sono, diciamo, come dire, in linea con un determinato teorema? Allora, questo non lo posso dire, nel senso che non conosco le altre. Dico solo che noi abbiamo contezza del materiale che è stato usato dalla procura e non di tutto il materiale perché processualmente non è ancora a nostra disposizione. Certamente è materiale che potrà aiutarci a contestualizzare l'accusa, in particolare quella relativa ai fatti che ruotano intorno al porto, dove tutto è stato presentato come una relazione tra due persone particolarmente intensa, quando in realtà di relazioni su questi fatti ce n'erano molte diverse, importanti e quando i fatti non si possono assolutamente schiacciare sull'interesse di un privato, ma sono fatti, se noi pensiamo all'ampiamento del porto, la diga, i tombamenti, sono fatti che hanno rilievo quanto meno nazionale. Peraltro non voglio sminuire il suo lavoro di ricerca, ma è una cosa che sappiamo tutti, perché sono anni che leggiamo di queste cose sui giornali, che ne scriviamo ai giornalisti, il fatto che ci siano tante parti in causa, alcune anche potentissime, con grandissimi interessi economici sulla città. Ci sono parti fortissime di tipo economico, ci sono anche parti legate a uno Stato straniero notoriamente forte, notoriamente interessate ai nostri porti, notoriamente per la sua espressione locale è l'unica parte che potrà avere qualcosa da rimetterci con la costruzione della diga. Non c'è dubbio, quindi sono tanti argomenti. Che tempi si aspetta da questo giudizio immediato? C'è quando arriveremo ad una sentenza? Questa è una domanda alla quale non so proprio rispondere, poi ci sono anche una serie di fattori del tipo anche il Tribunale ha il suo carico di lavoro, il Tribunale di Genova, come tanti altri, è afflitto da una carenza di organico non indifferente, da un grosso processo che ne blocca una parte, bisognerà vedere come si riesce a calendarizzare, insomma, non credo potrà finire entro l'anno, certo andrà a sovrapporsi alle elezioni per la Regione. Questo è un pericolo perché sarà il processo più mediatico della storia dei processi mediatici, almeno per la Liguria? Questo può essere un fattore che certamente potrebbe non giovare alla serenità del processo. Giovanni Totti è sembrato, dalle primissime parole di ieri, essere molto combattivo e di non avere intenzione di rimanere chiuso in casa pur potendo uscire, ma di voler partecipare in qualche misura al dibattito, oggi potrebbe esserci una nuova conferenza stampa, insomma, penso che sentiremo spesso il Presidente o l'ex Presidente parlare. Lo immagino, non lo so ancora, anche perché poi è un lato politico che esula dal processo, ma la sua intenzione è quella di dire della sua innocenza e di rivendicare dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Chiudo con questa domanda, lei che lo ha seguito come nessun altro, a parte i suoi stretti familiari nel corso di questi mesi, perché alla fine si è dimesso? Non ne poteva più? Lui ha fatto una valutazione molto attenta e molto responsabile, dove posso dire che il suo interesse personale veniva all'ultimo posto, nel senso è uomo tenace, è uomo molto positivo, è uomo molto lucido, avrebbe anche potuto rimanere agli arresti domiciliari per un tempo ben superiore. ha fatto una valutazione che teniva conto anche di aspetti politici, che sono della sua assoluta competenza e ha ritenuto fosse la cosa migliore, anche a fronte di un atteggiamento naturalmente della Procura, che fosse la cosa migliore quella di dare adesso le dimissioni. Tutti gli altri indagati, se rinviati a giudizio, andranno avanti con un processo parallelo, quindi voi dovrete difendervi su più tavoli? Eh beh sì, diciamo l'aspetto che mi lascia più perplesso di questa decisione è che ci saranno almeno due processi che passeranno in tempi diversi, ma sullo stesso binario, il che complica un po' le cose, anche perché poi gli elementi dell'uno confluiranno in elementi dell'altro e perché praticamente duplica il carico di lavoro del Tribunale. L'ultimissimo dettaglio, si era parlato fin dall'inizio del fatto che tutta la mole di intercettazioni ambientali e telefoniche sono state rese possibili da un'accusa circostanziata di aggravante mafiosa su rapporti che c'erano con alcune persone, diciamo così, genovesi legate alle elezioni. Molti hanno sollevato dubbi, anche giornalisti che hanno scritto di questo sulla, diciamo, consistenza di questa accusa di associazione mafiosa. potrebbe far saltare, diciamo, tutto l'impianto se qualcuno dovesse dimostrare che quella mafia in realtà non era? Tanto tengo a precisare che a Totti non è stata contestata questa aggravante, lui ne è fuori. Fa parte delle cose che andremo a vedere quando disporremo di tutto il materiale, tenendo anche presente che questo filone rimarrebbe fuori dall'immediato. Certamente potrebbe avere delle conseguenze sul processo, non automatiche perché la nostra giurisprudenza permette, ha un effetto di trascinamento rispetto a cose che entrano nel processo e poi si scopre dopo che avrebbero potuto non entrare ma nel frattempo abbiano legittimato determinate azioni. Chiaro. Avvocato Savi, grazie e buon lavoro. Grazie a lei.